4 classe A, campioni regionali danze standard sempre per la classe A2, finalisti al campionale italiano DC danze per la classe A ancora e semifinalisti nella ranking nazionale danze standard classe A2 e passaggio di merito per la classe A1. Con noi Mariangela Bagnato e Davide Tepaoli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.